Per fare autonomi la procedura chirurgica, il robot deve sapere come muovere. A livello gestore, il chirurgico può risolvere sulla memoria muscolare che ha ottenuto per ripetere gli stessi movimenti durante tutte le intervenzioni che ha fatto nella sua carriera. All'altra parte, il robot ha una biblioteca di azioni. Quando bisogna fare un gestore, si guarda per la biblioteca e lo adatta alla situazione. Per esempio, se il robot deve fare un corte, lo cerca il gestore del corte e lo adatta alla posizione in cui il corte deve essere fatto. Inoltre, se deve fare una sutura, lo robot cerca i gestori necessari per fare una cosa e lo adatta alla forma particolare della macchina. Grazie. Grazie.